ciao e bentornati al mio canale oggi vi mostrerò come poter registrare lo schema del vostro pc grazie ad active presenter uno dei migliori screen recorder gratuiti presenti sul mercato per prima cosa creiamo un nuovo progetto scegliamo lo streaming video per un'alta qualità di frame rate da questa schiamata possiamo decidere se catturare l'intero schema o una posizione di esso selezioniamo l'area dello schermo di nostro interesse ed avviamo la registrazione creiamo un piccolo filmatino da poter utilizzare come demo in questo caso sto muovendo il cursore prendo questa icona e la sposto da destra a sinistra appena ho completato la registrazione dello schermo premo la combinazione di tasti CTRL più fine l'applicazione a questo punto entrerà in modalità di editing mettiamo la visualizzazione a tutto schermo per poter vedere meglio cosa stiamo facendo questa è la schiamata principale delle applicazioni avviamo il video come potete vedere ci sono le animazioni che avevo creato in precedenza nel toolbar in basso troviamo il principale pulsante dell'applicazione a sinistra ci sono le diverse sequenze che noi andremo a creare mentre sulla destra ci sono dei menu di contesto vediamo adesso come è possibile inserire la voce direttamente sulla nostra sequenza il cerchio rosso avvia la registrazione il quadrato blu la ferma sarà creata nella nostra sequenza una nuova barra che rappresenta il testo registrato premendo sul tasto play avveremo la visualizzazione sia del video che del sonoro appena registrato ogni barra può essere spostata a nostro piacimento sulla nostra sequenza se vogliamo creare una nuova sequenza a partire da quella attuale usiamo il pulsante per lo split creare una nuova sequenza serve per limitare i dati solo a quelli di interesse in questo caso noi abbiamo effettuato lo split solo per eliminare i dati non voluti come potete vedere è stata eliminata la parte iniziale del video nel riguardo in basso a destra troviamo il catalogo delle registrazioni video e audio effettuati in precedenza un'altra funzionalità molto importante è lo zoom sullo schermo per attivarla bisogna andare nel menu annotation e selezionare zoom on pan un rettangolo sullo schermo indicherà l'area sulla quale effettuare lo zoom mentre una nuova barra indicherà quando iniziare lo zoom e per quanto tempo dovrà durare in questo caso ho impostato una durata di zoom molto lunga riduciamo la lunghezza dell'animazione e vediamo che effetto ha active present permette di inserire anche delle evidenziazioni delle azioni che noi possiamo effettuare sullo schermo come ad esempio il click anche in questo caso sarà creata una nuova barra che permette di gestire l'animazione vediamo all'opera l'effetto ripuliamo la sequenza degli effetti attuali e creiamo uno nuovo l'evidenziazione per creare questo effetto bisogna usare la pulsante highlight e selezionare l'area da evidenziare proviamo a evidenziare l'icona nel nostro filmato di testa dovrei sistemare meglio la temporizzazione ma comunque rendere l'idea di ciò che volevo fare infine come effetto base parliamo delle text caption ovvero della possibilità di inserire del test all'interno del nostro video anche in questo caso viene creata la solita barra all'interno della sequenza che possiamo modificare a nostro piacimento per indicare quando e dove inizia il testo e per quanto tempo deve durare la visibilità dello testo sullo schermo come potete vedere il testo è visibile fin quando la barra è presente nella sequenza come ultimo passo per la creazione del video bisogna effettuare la conversione dal menu Export selezioniamo Video in questo caso scelgo di creare un AVI il file sarà creato all'interno della cartella indicata in precedenza vediamo il risultato finale del nostro lavoro abbiamo registrato il nostro primo video ciao e al prossimo tutorial